è stato un grande successo l'expo del pistacchio di Bronte giunto ormai alla trentesima edizione lunghe code chilometriche hanno invaso l'intera città per assaporare come lo chiamano i brontesi l'oro verde il pistacchio di Bronte famose in tutto il mondo tantissimi stand sparsi per tutto il corso pieni di prelibatezze a base di pistacchio non solo cippo ma anche tanto divertimento con gli spettacoli dal vivo e l'animazione sono stati due weekend con il botto con protagonista proprio lui l'oro verde il pistacchio di Bronte Grazie a tutti